Sergio Mattarella ritorna al Quirinale per i prossimi sette anni per l'incarico di Presidente della Repubblica. È molto interessante, una volta che si è concluso questo bailan che ci ha accompagnato per una settimana, tentare di fare alcune puntualizzazioni che di fatto sono mancate, sono state completamente omesse nel contesto del quadro politico, così come il mezzo televisivo, lo strumento portante del processo della formazione delle notizie più che dell'informazione dei fatti, ha in qualche misura fotografato la situazione. Accantoniamo per ora una valutazione e speriamo che la presenza di Mattarella serva comunque a tranquillizzare la situazione, ma non mancano delle riflessioni che in qualche misura sono al di là della figura del Presidente rieletto. Gli aspetti che sono apparsi decisamente particolari sono riferibili di fatto per esempio alla rappresentazione che larga parte della stampa, larga parte dei commentatori o presunti tali, larga parte di coloro che ci sono addentrati nelle riflessioni su questa scadenza delicata del quadro politico istituzionale, hanno in qualche misura completato l'opera descrivendo il fatto che ci troviamo di fronte alla esigenza di dover fare una vera e propria paggella, come si fa per i calciatori, sul comportamento dei gruppi politici. Ebbene, il nostro giudizio è molto semplice. I partiti escono tutti completamente sfasciati, almeno quello che resta dei partiti, cioè di questi agglomerati che hanno sempre meno una identità culturale e politica e sono invece più che altro una vera e propria aggregazione di personalità che hanno in qualche misura la forma che si è venuta a definire, allorché dal 1992 in poi è stata ammazzata la politica, cioè il processo formativo democratico partecipativo che produce una rappresentanza degna di questo nome. Quello che colpisce è che in qualche misura abbiamo avuto commentatori che hanno ribadito vince il Paese. Ora, ripeto, a prescindere dal Presidente Mattarella, in che senso vince il Paese? Il Paese è stato mantenuto estraneo a quello che accadeva, baserebbe soltanto il racconto delle ultime ore, dell'ultima notte con la Vicenza Belloni, con la rappresentazione per cui si tentava di riformulare un governo giallo-verde con Conte, con Salvini, con la stessa Meloni che tentano un ribaltamento all'ultimo momento e quindi i salvatore della patria hanno impedito. La verità è che il giudizio ex post che vuole in qualche misura raccontarci che vi sia stata una catastrofe nel centro-destra e un tessitore silenzioso e in letta è un'autentica bagianata. Non perché il centrodestra non sia stato catastrofato, perché i fatti documentano che questo è il dato di fatto reale e i leader di questa coalizione sono tutti completamente privi di qualunque credibilità nel contesto. Ma quello che sembra stupefacente è che viene completamente omesso il racconto che riguarda lo scenario del presunto centosinistra, che di fatto è stato anch'esso minato alla base e nella sua credibilità. Non è soltanto le conseguenze dello scontro tra Conte e Di Maio, cioè il riferimento privilegiato dal segretario del Partito Democratico come l'asse portante di una nuova coalizione futura. Restano totalmente privi di soluzione tutti i termini dell'assenza di un'azione strategica adeguata alla gravità della crisi politico-istituzionale italiana. Diciamo che questo scenario stabilizza, formalizzo fotografo, uno stato di crisi che adesso viene spostato sull'azione di governo a cui viene dato il compito di affrontare con maggiore decisione l'insieme dei problemi che sono sul tappeto, che pure ce ne sono tanti, ma il punto che viene completamente dimenticato è che di fatto il racconto che ne viene realizzato è il proseguimento di quel processo di assenza di verità che in qualche modo dovrebbe significare il contributo che l'informazione dà raccontando i fatti così come si vengono a sviluppare. In realtà abbiamo più volte descritto come il nostro mondo dell'informazione è formato da due categorie. Abbiamo i gendarmi o corazzieri di regime e poi abbiamo gli sciampisti pettegoli che vengono chiamati retroscenisti. Queste due tipologie di soggetti dell'informazione hanno espresso il meglio di sé in queste ore e lo perseguiranno ancora di più perché ne faranno un racconto adeguato senza che venga chiarito perché il problema strutturale del Paese è che non si riesce a dare vita ad un'azione di riforma capace di dare una capacità di crescita del tessuto istituzionale adeguato al tempo che viviamo. Manca una governance, abbiamo un'ulteriore crisi di rappresentanza, è inutile ribadire che sarà stato un episodio particolare, ma l'elezione suppletiva a Roma ha avuto l'incredibile risultato di appena l'11% dei soggetti chiamati al voto che si sono presentati. Una cosa devastante, cioè un totale distacco che sia il prodotto di elementi che si sono consolidati nel tempo, ma raccontarlo perché Salvini è un pazzo scatenato, raccontarlo perché il centro d'azio si è spaccato, dimenticando di stabilire che se questi sono dati di fatto certi, come abbiamo più volte ribadito, è altrettanto vero che la conduzione complessiva fondamentalmente del PD è addirittura imbarazzante. Per non parlare poi degli altri soggetti che da sinistra si aggregano, penso alle imbarazzanti dichiarazioni fatte per esempio dalla signora Boldrini, quando di fronte al falimento del voto per l'Elisabetta Casellati, che poi tra l'altro è presidente del Senato, ha detto che non tutte le donne sono uguali, che detto nei confronti di una donna e per di più Presidenta del Senato, eletta all'unanimità dal Senato, è inquietante, si ha quasi la rappresentazione, tutte le donne sono uguali, ci sono anche quelle ebree, ci sono anche quelle nere, forse che possono essere ritenute poco idonee al sistema e all'acconciatura che la signora Boldrini ha in testa. E ancora di più l'affermazione secondo cui lei è una donna di parte perché è un avvocato di Berlusconi, come se gli avvocati non debbano difendere le persone secondo il dettato dello Stato e il diritto della Costituzione, cioè una cozzaglia di parole che rivelano la profonda assenza di cultura liberale che manca a sinistra come manca a destra, altro che trionfo del Parlamento, altro che fine dell'antipolitica, altro che fine dell'anticasta. Noi siamo nel cuore di una grande crisi e è auspicabile che nel suo secondo mandato il Presidente Mattarella ponga una vera base materiale per un'azione riformatrice che ha molti ostacoli perché tutto il quadro corporativo è poco propenso a realizzare quella funzione riformatrice che in particolare sulla giustizia è l'unico marco attraverso cui si può ridisegnare lo Stato di diritto in un Paese che sembra averlo smarrito forse da sempre. Grazie a tutti.